Ci siamo riuniti noi e abbiamo cercato di riunire tutta la città per tentare di essere uniti lottando insieme per arrivare ad avere una soluzione ai nostri problemi ma a tutti gli amici delle vertenze che avete citato, ma per tutte le problematiche cittadine solo l'unione può fare la forza. Abbiamo anche il nostro libro della solidarietà dove ci sono delle frasi, volevo leggere questa di Pertini che può fare al caso nostro diceva io credo nel popolo italiano, è un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei propri cari non chiede quindi il paradiso in terra, chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo, il diritto al lavoro e alla propria dignità di uomo. Questo fa il caso nostro, l'unione fa la forza e cerchiamo di unire tutta la città che stasera è sembrata essere solidale con noi per portare avanti appunto questo discorso di unione e di solidarietà.